allora questo passa nel menù bimbi scusate salve a tutti questo passa nel menù bimbi che ho controllato la busta che era chiusa che non voleva che si apriva samara se non la vedeva montone si era più sa busta e una e una signorini 6 persone 200 euro 6 persone ma come si fa da cose ma ci vogliono i cari bisogna avere i cari non è facile ma manco io con il menù bimbi ci vado a perdere io qua devo fare pure un menù solo sullo stuzzichini è bassa perché viene stuzzichini pigliate vate in mangiate due noccioline due patatine due pop corn e te ne puoi dire no allora io sono felice che questo è l'ultimo matrimonio perché su lui da mariso io pensavo i miei figli su sistematici che a samara l'ho adottata ma mi si rincia è come mia figlia e la devo sposare come di giusto e me la devono trattare come se tu fossi veramente mia figlia quindi che sia chiaro quindi capito una siniscio puro ad io tanto ci posso dare tanto chissà che ha spunto ora samara c'ha quasi quattro anni e mezzo che con me signori miei chissà che ha spunto ora cioè samara samara ora sta cambiando pure cognome si chiama forte ok come mio marito ok poi il cognome di mio marito signori miei forte si chiama poi è un di un debole di tutto a tutto indebollito e come a fare signori miei purtroppo c'è questo qua e quindi se un mattino anche la sala ormai la sala sai il mio numero non mi risponde più cioè io per dare un cambiamento alla sala mi mettere in ta macchina e ci dire perché se no non mi rispondono ok o devo cambiare il numero telefonico che avanti le chiamava chiamava non rispondevano chiamavo dal numero di samara pronto ci sei ma perché non mi rispondete perché non mi rispondete ci disse io se no signora lei ne ha sempre una ha qualche cambiamento mi pare pur male ma i cambiamenti che stai facendo io in ta chissà sala sono veramente assurdi sono veramente una cosa che non si può immaginare io ormai è imminente il 15 agosto io signori miei io la notte mi sono un matrimonio già io non sonnavo parte di matrimonio ho fatto un sogno che mia figlia si stava sposando e c'era sta sala eravamo tutti in armonia io ballavo con le mie cognate mi sono svegliata di sopra salto perché disse ho detto io nel mentre che ero nel sogno ma che è un sogno è stata monta all'aria e mi svegliavo perché non non può esserci mai l'armonia nel matrimonio con le mie cognate non può non poteva esserci mai che io nel sogno ballavo con le mie cognate il tacata ottenuto pe tacata tumpe di compatti catta tumpe di compi tacata un poiesse quindi subito quando patti uscia musica io stava ballando stava per fare la così ho detto mi devo svegliare perché è un sogno e mi sono svegliata che signori miei cioè da noi non si usa da noi si usa che quando si balla io parlo nei matrimoni degli altri non quello di mia figlia e cosa va quando ballano gli invidiosi delle dei dei miei parenti rimangono nel tavolo e guardano così a chiedere che ballano capi allora queste persone si devono rimanere a casa non devono essere neanche metate capito non devono essere neanche io di queste persone sapete quanto quanto un nevisso un tappare intera cavien non esiste sta cosa quasi non non esiste la festa è della coppia e va festeggiata e va festeggiata con allegria qualsiasi evento sia un compleanno non lo sa presentare caffuncia se voi vi dovete presentare arrestate va a casa non andate nelle feste nei compleanni dove c'è allegria bisogna esserci allegria e bisogna andarci allegri è giusto che do che stai dicendo io o sto sbagliando i funci se la stiano a casa quelli che si litigano marito e moglie vanno vanno nelle sale si e lo fanno capire che succede a casa scusate ogni tanto ormai che c'ho i denti a voce allora io non sapevo che i denti aumentavano la voce lo sto scoprendo adesso ne devo parlare col dottor caputo con dentexpert con dentexpert chi mi ha messo i denti devo dire ma a questa reazione perché mi sento la voce più squillante più non lo so mentre prima era più calma ora qualsiasi cosa dico è capito anche birillo quando chiamo birillo il mio cane scappa non capisco perché signori miei non capisco quindi casiamo signori miei siamo qua e vi terrò informati sempre su tutto su tutto come vanno le cose un mattino un minuto dimmi sì ci sono tre banane ne voglio una mangiate un minuto che si sta mangiando scusate 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 ecco qua, se non so mancia poluido, scusate domani devo andare di corpo questi sono quelli yogu che fanno nella pancia di notte è una bella, all'indomani va l'enna l'enna sta passando, polpe, sentite, ora suona, suona non suonò, passo direttamente yogurt alla pera, alla pera, capito? chissù, io penso, romani versi i sette binte di mattina già suonò a settare tanto da veneto saluto marinella, saluto roberto sicilia, saluto mamma paola, saluto mamma pina dall'america mamma maria, zio salvatore zia meri, ok, giusi rossi, marinella, rose e lilli palumbo vi saluto, vi saluto veramente, agata a tutti, vi saluto capito? vi saluto che buono, scusate signori pure ho pensato a farci mettere in tuo menù un yogurt no, ho fatto mettere tutti i digestivi i digestivi, solo i, solo i digestivi un tuo matrimonio ne sanno che sanno che voi non potete immaginare quanto ci stanno costando una marea una marea di piccole perché quello il limoncello poi c'è il gelatino al limone poi c'è un coso che frizza stai facendo una cosa e poi c'è l'acqua tutta minerale per tutti i frizzanti ora i bustini ci stai facendo preparare ci pare che io tutti i piccoli piedi piedi loro non bevono l'acqua liscia loro vogliono l'acqua ruvida capito? e io ci sto pensando già ci puitavo infatti questo della sala dice signora ma non esiste che a noi le cose li portano cioè lei ne portano cose cari ma noi ci facciamo pari o sì ci stiamo facendo pari niente perché l'acqua va ho portato pure io una va cercando il risparmio ovunque signori se non si risparmia nella vita che cosa si deve fare? si deve risparmiare se no niente ok? perfetto un attimo solo che finisco il rarvemento stavo mangiando il un picciotello un picciotello siccome ho un po' diere in bagno mio marito caceva tutte le mattine che mi resta da cacevo un po' che decidera di acqua non una resce e stavo mangiare un gioco che è lo mio assurdo ecco qua anche qua volevo ringraziare gli amici miei di facebook che sono quelli che mi danno da mangiare nel senso che quando c'ho qualche serata vengono ok? perché io quando capita che c'ho qualche serata mi informo da dove da dove mi segui levando qualcuno della famiglia stretta facebook da dove mi segui facebook da dove mi segui facebook ah voi che seguite da facebook venite nelle mie serate e mi date atto che io posso mangiare mentre quando faccio reggi faccio spettacoli gratis a cose gratis ma ok perfetto accontentiamoci dei video per ora ok ok vi saluto una buona domenica a tutti dalla signora titina ok seguite le mie dirette su facebook alla prossima ciao ciao ciao